Cosa vuol dire andare se non si può tornare? Dall'inferno non si porta a casa un bel souvenir La tortura è inestare, la paura è sparire Come puoi portare un nome senza un'identità? Non è nella mia natura Fattene se vuoi e fattene se puoi adesso Ora tocca proprio a me Dove scappo adesso? Che... 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 Che...